Io all'interno delle prestazioni che abbiamo fatto vedo tanto già di realizzato. Ovviamente il tanto di realizzato sta nei gol fatti, sta nella tenuta del campo, sta nella possibilità di, tranne in una partita, di essere stati competitivi contro chiunque. Cosa va migliorato? Va migliorato quello che ci siamo detti un po' dall'inizio dell'anno. Una fase di non possesso probabilmente condita da un po' di errori. L'organizzazione non è riuscita a mettere nella sicurezza alcuni errori individuali, quindi su questo dobbiamo lavorare. Ma all'interno delle prestazioni, come l'ultima che abbiamo fatto, ci sono tanti motivi per poter dire che il lavoro ha avuto già una sua dimensione. Ovviamente nessuno è contento dei risultati di oggi. Noi stiamo lavorando affinché i risultati prossimi saranno più soddisfacenti. Si vede, è evidente, che la squadra non è una squadra in disarmo, è una squadra che è competitiva contro chiunque. In questo momento i particolari non ci stanno dando ragione. Dobbiamo continuare a lavorare, sarà una campana stonata. So che i ragazzi hanno disponibilità e dobbiamo cercare di portare dalla nostra i dettagli che in questo momento ci vedono non protagonisti. Ecco, il fatto di avere, è come se lei avesse due squadre nei 90 minuti. Una che gioca per vincere e vince, perché chiude praticamente il primo tempo. Se si voleva solo concretezza non si chiamava Longo a dirigere il Crotone. Io ho una missione bella chiara e il Presidente me la conferma ogni giorno con la sua stima e con quello che vuole. Lo dice chiaramente quello che vuole. Vuole rivedere un Crotone che gioca a calcio e che faccia divertire. Ad oggi questo non succede per i risultati, ma la squadra è già sulla giusta strada, secondo il mio punto di vista. Faccio un'altra considerazione. Perché più che leggo, sento, anche in questa sua considerazione, anche noi non siamo partiti bene. Non siamo partiti bene, però cerchiamo di capirci. Quanto ci manca rispetto a quello che potevamo ottenere? Tre punti? Quattro punti? Perché se qua si pensa che questa squadra avrebbe dovuto avere 10 punti in più, 15 punti in più, stiamo prendendo in giro l'ambiente. Nessuno ha detto qui che bisognava primeggiare. Nessuno ha detto che si doveva vincere. Ovviamente tutti sogniamo, ma dobbiamo essere chiari, perché nessuno ha preso in giro nessuno. Quindi a questa squadra, in questo momento, mancano tre, quattro punti. All'Avellino non so se mancano tre, quattro punti. Investimenti fatti quest'anno non sono gli investimenti degli altri anni. Lo dice chiaramente il mio presidente. Abbiamo una strada, abbiamo tracciato una strada. C'è un programma, all'interno di questo programma, c'è un allenatore che prova a lavorare per portare un'identità di gioco. Se dobbiamo portare soltanto pragmatismo, probabilmente io non sarei qui a parlare con voi. E in realtà è questa. E quindi snaturare tutto un progetto per sette giornate, quando invece di in programma ne abbiamo 76 da fare insieme, mi sembra un attimino riduttivo. Quindi ovviamente io devo essere bravo a legare il gioco anche ai risultati. E questo lo otterremo nel tempo. Però che io oggi mi mettessi qua a fare totalmente cose diverse, da quello per cui sono stato chiamato, secondo me sarei poco leale e poco corretto rispetto alla missione che mi è stata assegnata. C'è una lesione muscolare per trauma diretto da parte di Sala che esce malconcio in uno scontro di gioco col Potenza e ieri addirittura gli è stato diagnosticato una lesione. Cosa abbastanza non naturale, nel senso che non viene da un trauma diretto, da un contatto con l'attaccante del Potenza. E su questo continuo a fare quella mia piccola battaglia che è un po' di tempo da questa parte che dico che alcune cose vanno un po' tutelate in più. Alcuni casi che già abbiamo avuto, Spina e altre situazioni da contatto. Mi auguro che nel tempo le ammunizioni vengono date più per questi falli e non tanto per commenti all'interno delle partite. Ci si ferma troppo a fare altri tipi di considerazioni. Quindi abbiamo questa situazione, la giunta di Sala, che è il vero infortunato in questo momento della settimana e proveremo a recuperare gli altri calciatori, quelli che avete detto poc'anzi, Ovizzac e Spina sopra tutti. Come arriviamo alla partita? Arriviamo con una squadra che ha voglia di riscattarsi, di provare ad accelerare quel processo che ci possa vedere protagonisti finalmente in un risultato che possa dare soddisfazioni soprattutto alle persone fuori, ma per poter dare soddisfazioni a tutti coloro che lo meritano, i ragazzi devono incominciare a pensare che lo meritano prima loro ancora degli altri. Nel senso che è proprio per noi che dobbiamo incominciare a giocare, dobbiamo incominciare a stringere un po' più i denti e loro mi risponderanno che ce la stanno mettendo tutto perché sono convinto. E allora vuol dire che quel tutto ancora non basta e dobbiamo fare ancora qualcosa in più affinché regaliamo le gioie a tutti e soprattutto ce ne prendiamo qualcuno anche noi perché vi assicuro che si lavora sodo e chi lavora, io dico sempre, che poi a chi lavora aspetta premio.